Mi chiamo Marco Mazzoli, ho 43 anni, professione DJ. Da oltre 16 anni conduco il programma più folle d'Italia, lo ZODI 105. Quando pensi di aver raggiunto il successo, crolli. Sei licenziato! Quando invece credi di aver toccato il fondo, è lì che vinci. Siamo subito con la hit della settimana. Dai cecchetto! Chiamali! Che tu lo dici! Come? Ciao! 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 Ciao!